Ciao ragazzi e benvenuti nel nostro immancabile weekly del sabato mattina Allora, due chiacchiere su diversi temi Iniziamo con le cose formali per rievocare tempi andati Allora, settimana molto positiva, un grazie di cuore a tutti Perché questa settimana tra la recensione di Decalisto Protocol, quella di Need for Speed Unbound I due Spotlight e un po' tutto il resto È stata una settimana molto buona in cui ho visto veramente tanta tanta voglia di partecipare Alle discussioni, alle chiacchiere, ai confronti E ripeto, la cosa che mi stupisce è che comunque il clima sia sempre tendenzialmente positivo Sì ogni tanto c'è una discussione, la cosa è normale come nella vita reale Ma riusciamo sempre a mantenerci tranquilli, la cosa mi fa molto molto piacere Mi ha fatto anche riflettere tanto su temi che vi introdurrò adesso andando avanti Perché vedo una community sana, una community forte, una community che merita determinate cose E questo è un accenno a un discorso più ampio che voglio fare tra un po' Settimana prossima avremo diverse cose Domani avremo la live di FIFA per iniziare un po' la nuova stagione In settimana parleremo di diversi prodotti che andranno a chiudere un po' il discorso del 2022 E mi permetteranno finalmente di iniziare a lavorare su top e flop di quest'anno Come ben sapete io seguo il calendario quindi sto aspettando High on Life E sto aspettando di finire il nuovo Crysis Core che sto giocando in questi giorni E che ne parleremo appunto non appena avrò modo di farlo perché purtroppo il codice è arrivato un pochino tardi Quindi la recessione arriverà ma datemi tempo Quindi stanno arrivando top e flop ma ripeto io voglio giocarmi tutto quello che c'è da giocare E poi quindi arriveranno credo fine anno proprio Fine dicembre inizio gennaio come al solito Tempo di poter vedere tutto perché ci tengo a fare una top e flop che sia completa veramente di tutto quello che c'è da giocare Anche appunto ci avremo modo di parlare anche dell'upgrade di The Witcher 3 Che appunto sarà uno dei temi principali della settimana che verrà Insomma tante cose di cui parleremo Ma appunto voglio introdurvi una cosa Questa settimana è andato online un video un po' particolare del mio amico Billy Foster Tanti sicuramente già lo conosceranno Se non lo conoscete e siete amanti della cultura pop italiana Fate un salto sul suo canale perché appunto merita Una delle poche persone, uno dei pochi uomini che hanno la mia stima Devo dire, per tanti motivi E ha pubblicato un video di... Non voglio dire sfogo perché sarebbe riduttivo Di riflessioni riguardo al periodo, riguardo alla sua attività su YouTube Riguardo a tante cose E in qualche modo ascoltando lui Ho percepito di provare a volte un po' lo stesso malessere Seppur per motivi diversi Mi spiego È un periodo in cui il contesto di YouTube Ma in generale il contesto social Mi provoca un po' di malessere Ma non in relazione al mio lavoro in questo caso Perché io sono felicissimo di quello che faccio Mi sento, come vi dico sempre, in un'isola felice Il luogo in cui vado a rifugiarmi Quando le cose vanno male nella vita reale Il canale è sempre stato un po' la mia salvezza Per tanti motivi Per cui non è un malessere legato a voi minimamente Anzi Ho sempre una voglia pazza di fare E vi posso garantire che la vostra presenza e il vostro supporto È sempre fondamentale per tenermi sempre desideroso di fare di più A me e a Elisa Quindi Però è un malessere che è cresciuto specialmente quest'anno Direte perché È cresciuto quest'anno Rispetto a un contesto in cui ho percepito veramente Tanto, troppo Arrivismo Tanta, troppa voglia di Calpestare il prossimo Pochissima trasparenza Pochissima verità È un anno in cui mi sono sentito tradito da tante persone È un anno in cui Mi sono reso conto di essere Tendenzialmente Un pochino Ancora Solo Professionalmente E per reazione Mi sono allontanato Praticamente da tutto quello che riguarda Il lavoro Il lavoro che non sia I miei canali I nostri canali Quindi Un certo tipo E puntualmente mi accorgo Soffro E ne soffro Dico la verità Non mi vergoglio di dirlo Percepire ecco poca verità intorno Quella è la cosa che a volte mi fa più male E questo Insieme alla consapevolezza di Quale piega abbia preso Il settore in cui lavoro Mi sta portando verso Delle scelte Un po' difficili Un po' complicate Di cui non sono ancora pronto a parlarvi Perché con Elisa stiamo definendo alcune cose Stiamo cercando di capire Cosa fare Come farlo E qual è il miglior modo per farlo Senza che Voi ne risentiate In alcun modo Non ci fermiamo ovviamente Ragazzi ci mancherebbe Almeno vi rincuoro subito Però Crediamo sinceramente Che sia arrivato il momento di fare Dei cambiamenti Ok Io Ormai sono arrivato a 35 anni Sono cambiato Sono maturato Mi sono evoluto Ecco Sono cresciuto Adesso non so dire Se in meglio o in peggio Ma sono cambiato Inevitabilmente Con l'età si cambia Crescendo ci si Ci si Modifica Ok E Credo che sia arrivato il momento Di fare le cose In maniera diversa Per essere coerenti Con il percorso Che abbiamo iniziato a fare Specialmente nell'ultimo periodo Per cercare Di darvi qualcosa Di più E di darvi Un servizio migliore E di darvi Un luogo Più Più adatto A chi vuole Un certo tipo Di contenuti Ok Cioè Voi mi avete Ed è una cosa Che io vi riconoscerò Sempre E sempre ve l'ho ripetuta Voi mi avete regalato Il privilegio Di fare quello che amo Ogni giorno E credo che questo privilegio Vada in qualche modo Ripagato Vada in qualche modo Celebrato Attraverso Il lavoro quotidiano Di un certo tipo Per cui Stiamo valutando Come potervi dare Di più Ma non in termini Quantitativi In termini qualitativi Che è diverso Adesso io Vi posso dire la verità Credo Che Si sia raggiunto Il giusto equilibrio Tra Offerta Editoriale E Quantità Di offerte Editoriale Nel senso che Non credo che tornerò mai Ai 4-5 video Al giorno Che facevamo Anni fa Perché sono una follia Da Sostenere Come ritmi Ma credo che i 2 video Al giorno Barra 3 Quando capita Siano assolutamente Sostenibili E siano assolutamente Giusti Per poi poter avere Anche dei tempi Di lavorazione Studio Analisi Come quelli che hanno portato Poi alla Creazione di video Magari un po' più elaborati Un po' più complessi Come potrebbe essere Quello di Cotto vuole E come quello Della critica Che vedrete Più avanti Però appunto Vogliamo Cambiare un po' L'impronta Di quello che si fa Cercare di fare Certe cose Diversamente Però appunto È un discorso Un po' lungo Che va raccontato Nel momento in cui Certe cose Si sono definite E credo che lo farò Verso la fine di quest'anno L'inizio del prossimo Però tutto questo Per dirvi Purtroppo Io mi rendo conto Di Di fare un po' Fatica Sotto certi aspetti A A vivere Questo contesto Perché mi rendo conto Che io mi approccio A questo lavoro In maniera molto diversa Rispetto a tutti gli altri Alla maggior parte Quanto meno A 99% Degli altri Che non vuol dire Che io lo faccia meglio O peggio Vuol dire semplicemente Mi approccio a questo lavoro Diversamente Con altri scopi Con altri obiettivi Con altre ambizioni Che non sono Semplicemente Il Prendi soldi Che scappa Ok E di conseguenza È una frase Buttata lì Tanto per Ma nel senso Il focus Non è riempirmi Il conto in banca È una cosa Un po' più elaborata Di conseguenza Richiede scelte diverse Ecco E Altrimenti Avremmo Avremmo fatto Già da tempo Da anni Delle scelte diverse Cosa che non è successa Per cui Credo Credo che Le cose Che stiamo Progettando Forse ci creeranno Dei problemi Forse ci isoleranno Ancora di più Rispetto a quanto Già non sia accaduto Perché Perché Non Ho l'impressione Che potrebbero anche Complicare un po' Il lavoro Per certi versi Alcune scelte Che vogliamo fare Ma credo Siano scelte necessarie Per Per essere coerenti Per In qualche modo Anche Offrirvi sempre Quella trasparenza Che ho sempre cercato Di offrirvi Da ogni punto di vista E che non voglio Far mancare Perché credo Che sia l'unica cosa Che non posso Non posso negarvi Alla luce Di quello che vi ho detto Cioè Della fortuna Che mi avete regalato Cioè Di fare il lavoro che amo Quindi insomma Cose di cui parleremo Più avanti Però vi posso dire È un periodo complicato Un po' per me Diciamo che Per certi versi Mi sento come Se stessi vivendo La crisi di mezza età Trent'anni Ecco Doveva arrivare Tra una quindicina d'anni Invece è arrivata adesso Ma non importa Però È un periodo Un po' complicato Perché Ripeto Rendersi conto Di essere Fondamentalmente Soli In quello che si fa Per tanti motivi Non è Non è bello Per uno Peraltro Che soffre un po' Di solitudine esistenziale Già di suo È qualcosa Che a volte Un pochino Ti stranisce Un pochino Ti infastidisce Anche se vogliamo Perché Comunque dentro di me Coesiste Il lato Sofferente Che è quello Che è quello Che c'abbiamo tutti È il lato rabbioso Che se vogliamo È quello che mi ha anche permesso Di arrivare dove sono Con il lavoro Perché ho sempre Mi sono sempre alimentato Un po' A A A rabbia E voglia Di rivalsa E diciamo Che la mia vita Mi ripropone sempre Quel tipo di dinamica Mi ritrovo sempre lì A provare Quelle sensazioni Che poi sono quelle Che mi danno la carica Per andare su Però Vediamo Ripeto Siamo un po' Destabilizzati In questo periodo Ma Ripeto Credo Credo che quello Che è accaduto Sia accaduto Per un motivo Io sono uno di quelli Che parte sempre dal presupposto Che le cose Anche quelle Spiacevoli Accadono sempre Per un motivo L'importante È capire qual è E cercare di sfruttarlo Come trampolino È quello che mi ha sempre portato A A reggere anche cose Che tendenzialmente Non avrei dovuto reggere In età più giovani Quindi diciamo Che adesso che sono adulto Riesco Riesco a far mia Questa filosofia Non ci avrete capito niente Forse alcuni Di tutto il discorso Che ho fatto In tal caso Vi chiedo scusa Ma Avevo voglia di accennare Un po' Delle cose Che vi risulteranno Più chiare Col passare delle settimane Forse alcuni Avranno già colto Il messaggio di fondo Avranno colto Dove vogliono andare a parare Quello che probabilmente accadrà Gli altri lo scopriranno Con calma Comunque sia Ragazzi Io vi ringrazio Come sempre Di tutto Anche di Darmi l'opportunità Di avere uno spazio Come questo Per poter chiacchierare Anche di cose così Dannatamente personali Come in questo caso Ci vediamo Ci vediamo Sabato prossimo Sampai 10 Per il prossimo Weekly Vi anticipo appunto Domani live Con FIFA Parleremo peraltro Della serie di Dragon Age Su Netflix Sul canale di Elisa Parleremo anche Di parecchie altre cose Questa settimana Sul canale di Elisa Insomma vogliamo Vogliamo allargare un po' E a breve riprenderemo Anche su Casa dei Falchi Chiuso il mondiale Farò un video di Chiusura Della manifestazione Per parlare Anche un po' Del perché Non l'ho fatti I vari video Sulle varie partite Non Io Purtroppo Ho la componente Come vogliamo chiamarla La componente Morale Parrone Anche Inadeguato Comunque La componente morale Che mi condiziona Un po' tanto E quello che faccio Che mi rendo conto Che per certi versi È un po' Una zavorra Nella mia vita E che mi compromette La vita Sotto tanti punti di vista Però Quando uno nasce tondo Non può morire Il quadrato E viceversa Quindi insomma Avremo modo Di ripartire In vari aspetti In vari ambiti E se Dio vuole Col 23 Si smuove anche Il discorso casa Insomma Adesso Grandi novità in arrivo Mi auguro Che il 23 Mi auguro Il 23 farò in modo Che possa essere Un anno Di cambiamento Forte Importante Significativo Necessario Anche perché Ripeto ragazzi Pure quest'anno Vi posso dire Abbiamo già Superato Il numero Di views Dell'anno scorso Siamo Oltre i 20 Milioni Di views Che per un canale Di infotainment Chiamiamolo così In cui però Si tende a fare Ormai più informazione Che intrattenimento Trovo che sia Un risultato Straordinario Che poi È quello che ci porta Verso certe strade Verso certe direzioni Verso certi obiettivi Difficili Poco Poco redditizi Se vogliamo Però assolutamente Necessari Se si vuole essere Onesti con se stessi Per cui ragazzi Un abbraccio Grazie E ci vediamo sabato prossimo Se volete solo il weekly Per il resto Ci vediamo più tardi Ciao